il bloccato no? non credo che l'avete girato? non credo con il bloccaggio va ma questo è il 25 ma non c'è questo nel motore c'è una bloccazione tecnica ma se vedi a me il dito si prova così depurato dai spacchi io vorrei 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 Non c'è nessuno, non c'è nessuno. 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 Non c'è nessuno. Non c'è nessuno.